Carissimi fratelli sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la domenica di Pasqua, la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Questa resurrezione non parte del fatto che la tomba è vuota come abbiamo sentito nel Vangelo. Le donne sono andate al sepolcro, ma il sepolcro era vuoto. Questo non è un segno di questa resurrezione. La resurrezione è confermata perché c'è la testimonianza di quelli che hanno vissuto l'evento, gli apostoli. Abbiamo sentito nell'apprenditura altri degli apostoli. Gli apostoli rendono testimonianza di questa vita nuova di Cristo, la resurrezione di Cristo. Cristo risorge non con un altro corpo, ma con il suo vero corpo. E poi durante questa settimana, durante l'ottava di Pasqua, sentiremo le apparizioni di Gesù in mezzo agli apostoli per dare senso al suo vero corpo. Non è che è un fantasma, non è che ha un corpo non so di che tipo, ma è proprio vero suo e corpo. Dunque, l'elemento fondamentale della resurrezione di Cristo non tanto il vuoto o il sepolcro vuoto, ma piuttosto la testimonianza degli apostoli e di tutti quanti che hanno vissuto l'evento. Questa resurrezione è la speranza di ogni uomo. Gesù era morto, adesso è risorto. Per dire a ciascuno di noi è possibile disperare. Noi siamo morti con queste situazioni, questi eventi dolorosi, queste ferite che abbiamo nel cuore. Siamo morti, disperati, perché la disperazione è quasi una morte. Lo scoraggiamento, la pigrizia è quasi una morte. E Gesù risorgendo vorrebbe invitarci a capire che tutto è possibile. Tutto non è finito. È possibile di risorgere, cioè di sperare, avere forza e coraggio di continuare a vivere, a realizzare ogni cosa, però non da soli, insieme a Lui. Ecco il senso della nostra resurrezione, della resurrezione del Signore. Noi ritroviamo una nuova vita in Cristo, perché se uno è in Cristo diventa una nuova creatura. Le cose di prima sono passate, sono nate di nuovo, dirà San Paolo a posto. Vi auguro una buona e santa Pasqua. Dio vi benedica sempre.